I carabinieri della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno tratto in arresto un 18enne catanese residente in via Capopassero per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione. Gli investigatori, dopo aver organizzato un dispositivo di appiattamento discreto e a distanza, hanno effettivamente osservato come il giovane a bordo di uno scooter fosse estremamente operoso tra le vie del quartiere San Giovanni Galermo, dove lo stesso abita con la famiglia, facendo la spola tra gli automobilisti che solitamente si recano in quella zona per acquistare sostanze stupefacenti. Compresa quindi la dinamica degli spostamenti del neomaggiorenne, i militari dell'arma hanno deciso di far scattare il blitz circondandolo con i propri mezzi di servizio in via Capopassero, in modo da non dargli alcuna possibilità di fuggire. Sin da subito il 18enne, conscio di essere ormai stato scoperto, ha riferito di essere l'unico utilizzatore dello scooter nonostante il mezzo fosse intestato al padre, ammettendo in questo modo che tutto quello che sarebbe stato trovato sul veicolo era riconducibile a lui. In effetti la perquisizione del motociclo ha confermato l'originaria ipotesi investigativa dei militari che nel vano sottosella hanno trovato non solo più di 100 dosi di cocaina, del peso di circa 25 grammi e una ricce trasmittente, chiara evidenza della sua attività di pusher, ma anche una pistola modello revolver che seppur priva di munizionamento era perfettamente funzionante. A quel punto i carabinieri hanno deciso di approfondire le ricerche perquisendo anche l'abitazione del ragazzo, dove sono stati recuperati, nella sua camera da letto, 815 euro provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale ritrovato è stato sequestrato, mentre sono ancora in corso gli accertamenti volti a far luce su come il giovane si è entrato in possesso dell'arma illecitamente detenuta, che peraltro, nelle banche dati, risulta ancora appartenere a un uomo originario di Acireale, nato nel 1907. Il diciottenne arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto nella propria abitazione agli arresti domiciliari.